Buongiorno Capitano, nei reperti provenienti dal pianeta Terra ho trovato questo libro riguardo alcune delle loro religioni di Holy Bible. Ha delle illustrazioni molto belle, una in particolare. Da sempre si cerca di riportare alla luce i tesori che la rinca aveva razziato a Roma. Sarebbe un'impresa fenomenale se qualcuno mi riuscisse. La menorà è una lappa da doli o sette bracci. È un simbolo. Sanno farti ridere o piangere perché sanno sognare. Ma non hanno ancora imparato a vivere. Non possiamo andare sulla Terra. Morpheus, massima curvatura. Alza gli scudi mimetici. Si fa rotta verso la Terra, Capitano. Non la deluberò. Musica Grazie a tutti.